Abbiamo fatto le comparazioni con delle orme che abbiamo in collaborazione con lo zoo di Napoli abbiamo rilevato anche della Pantera che lo zoo stesso ha in detenzione abbiamo avuto una compatibilità L'ultimo avvistamento della Pantera è proprio in questa zona in questo agro privato che sarebbe di proprietà di un noto professionista della zona ovviamente non ci hanno svelato di ci ed è a pochissima distanza da Sant'Angelo a Scala dove c'è stato il penultimo ritrovamento ma l'ultimo ritrovamento, quello ritenuto molto attendibile perché come poi dopo potrete vedere dalle immagini del nostro guido ci sono proprio le impronte che avrebbe lasciato la Pantera c'è un sopralluogo in atto proprio in questo istante da parte degli esperti noi li abbiamo sentiti e adesso cerchiamo di capire proprio da loro cosa potrebbe emergere da questo sopralluogo di cui poi daremo conto nei prossimi giorni Oggi avviamo un percorso in qualche modo ordinato che cercherà di darci quelle informazioni necessarie per supportare una delle teorie è o non è una Pantera l'approccio che utilizziamo è proprio quello di un'indagine abbiamo delle procedure ben definite ci sono alcune informazioni che possiamo recuperare in breve tempo quindi magari se le impronte che ha lasciato l'animale sono ben definite magari riusciamo già ad avere un'indicazione abbastanza attendibile i tempi tecnici della processazione di un campione che richiede dai 3 ai 5 giorni dipende un po' dalla metodologia che utilizziamo e dalle prime impronte voi potreste riuscire già a capire se le impronte sono ben conservate quindi la morfologia di quello che ritroveremo sul terreno ci conforta rispetto ad un'opinione magari possiamo anche avere un'indicazione più precisa io ho visto anche delle orme che in prossimità di un avvistamento sono state rilevate e diciamo che per gran parte di quelli che erano i rilevi fotografici che ci sono arrivati nutrivamo forti dubbi per una conseguenzialità poi di eventi quindi l'avvistamento di questa persona che poi ha detta anche delle autorità era una persona affidabile con il rilievo di probabili orme compatibili con un animale tipo quello che stiamo cercando diciamo ha fatto alzare un po' l'asticello o meglio non ci ha permesso di escludere al 100% che si possa trattare di un animale onfelide insomma di quelle dimensioni abbiamo fatto le comparazioni con delle orme che abbiamo in collaborazione con lo zoo di Napoli abbiamo rilevato anche della Pantera che lo zoo stesso ha in detenzione quindi la conformazione e su quella comparazione e sulle orme insomma soprattutto riferite insomma nell'episodio che vi ho riferito prima abbiamo avuto una compatibilità sia nelle dimensioni sia nella conformazione c'era una compatibilità per la verità in primo momento come ho detto già prima avevo preso sotto campo perché ogni tanto si sentono di queste cose qualcuno che si impressiona di cose così poi dagli indizi, dalle cose che sento, dalle informazioni che ho avuto insomma c'è qualcosa, delle orme che si sono ritrovate c'è qualcosa che può risalire a un grosso filino se ne parlava nella zona di Foggia, poi nel Beneventano, poi a Montemiletti insomma sono abitate naturali per questi grossi filini insomma grazie grazie